Amici di Marcosbox, benvenuti in questa piccola video anteprima di KDE Plasma 5.21. Come ben saprete, qualche giorno fa è stata rilasciata la versione beta di KDE Plasma 5.21 che, ricordo, verrà rilasciata in forma stabile il prossimo 16 di febbraio. Prontamente ho deciso di provarla sulla mia installazione di KDE Neon. Avevo già una precedente installazione di KDE Neon con il ramo stabile. Mi è bastato semplicemente passare al ramo testing e andando a modificare i repository. Se volete fare la stessa cosa, sappiate che il passaggio si può fare, è abbastanza indolore, giusto qualche piccolo problemino durante l'aggiornamento, ma se siete utenti che preferite le cose stabili, preferite non mettervi a pasticciare, o vi scaricate la ISO aggiornata di KDE Neon Testing e ve la provate in macchina virtuale, o aspettate giusto quella ventina di giorni affinché il rilascio di KDE Plasma giunga all'interno dei repository del ramo stabile di KDE Neon. Quindi don't try this at home se avete deciso di utilizzare, deve avere un sistema stabile al 100%. Quindi queste cose lasciate da me, che lo sapete bene, che io ci sguazzo in bug e problemi mari. Allora, iniziamo subito a parlare di questa nuova versione parlando del nuovo lanciatore applicazioni. Adesso vi faccio vedere subito il nuovo lanciatore applicazioni, qual è la principale novità. Come potete vedere, a differenza di Kickoff, il nuovo lanciatore applicazioni nella schermata principale vi mostra sul lato sinistro le scorciatoie alle macro-categorie, quindi ai preferiti, tutte le applicazioni che sono divise in ordine alfabetico, quindi è possibile andare subito a vedere le varie lettere. Abbiamo poi le classiche, le classiche raggruppamenti grafica, applicazioni grafica, applicazioni per internet, multimedia, sistema, sviluppo e quant'altro. Ma torniamo un attimo ai preferiti. Come potete vedere sui preferiti, sulla destra abbiamo una griglia, diciamo così, una visualizzazione in griglia con le varie icone belle e grandi in modo da poter essere subito cliccabili e raggiungibili. Come potete vedere io di solito metto sempre i browser, pinno, il terminale, perché il mio fidato è micoterminale e telegram, queste sono le applicazioni che utilizzo principalmente. Mentre per quanto riguarda le categorie abbiamo soltanto una visualizzazione a vista. Altra novità che potete vedere, in basso abbiamo delle schede. Abbiamo la scheda con le applicazioni, che è quella principale della schermata principale. Abbiamo le risorse del computer, quindi con le applicazioni, le risorse, quindi i collegamenti alle cartelle, quindi la directory home, documenti scaricati, musica, immagini e quant'altro. Abbiamo poi la cronologia, con la cronologia delle applicazioni, la cronologia dei file, quindi ce le andiamo ad avere subito a portate di mano. E poi abbiamo gli utilizzati di frequente, quelle che sono le applicazioni che noi andiamo a lanciare di più. Non so perché mi ritrovo a KDN Live, ma comunque è una cosa abbastanza strana, perché l'ho avviato soltanto una volta. In più abbiamo in basso, come potete vedere, delle schede riguardanti i collegamenti rapidi per il comando della sospensione, per riavviare e per spegnere. Cliccando su Esci invece c'è la possibilità di fare il chiudisessione, cambiare utente o bloccare. Quindi tutto a portata di mano direttamente all'interno dei moni. Se comunque siete dei nostalgici, sappiate che è possibile installare lo stesso Kick-Off, il vecchio lanciatore applicazioni, e lo trovate su store.kde.org. L'altra novità che mi piace un casino riguarda il nuovo schema di colori delle applicazioni. Qui avete una piccola anteprima. Il nuovo schema di colori si basa su colori chiari e abbiamo una barra del titolo finalmente con colori chiari che risolve uno dei problemi che io ho sempre più odiato sulle ultime versioni di KDE. Le vecchie versioni di KDE, le versioni precedenti alla 5.21, avevano un problema che il vecchio schema di colori offriva la barra del titolo scura. Direte voi dove stava il problema della barra del titolo scura. Bene, questo è Firefox. Io sto utilizzando Firefox. Con il vecchio schema di colori, si aveva un bug fastidiosissimo che era stato segnalato diverse volte. Mi ho lamentato all'interno del canale Taregamo. Chi mi conosce lo sa che io mi lamentavo sempre di questa cosa. Io mi lamentavo sempre di tante cose. Però in particolar modo mi dava fastidio questo perché si aveva l'impossibilità di leggere le schede in secondo piano con il vecchio schema di colori perché le scritte di Firefox sono nere, il tab in secondo piano era scuro, quindi scuro sul nero e se capiva niente non si riusciva mai a vedere che cosa avevi se non te ne accorgevi soltanto dalla favicon che cosa andavi a riprire. Adesso finalmente ho risolto questo problema e mi posso mettere Firefox così con la barra del titolo nascosta. Prima ero costretto a tenere la barra del titolo in evidenza in modo tale da risolvere questo problema e finalmente hanno fatto una cosa buona e giusta. Oltre a questo, vi faccio vedere subito anche l'integrazione del schema di colori per quanto riguarda le altre applicazioni. Questo LibreOffice vedete che è molto bello questo distante. Io lo trovo molto carino. questo distacco che si vede tra... questa palette colori che è stata scelta che fa il distacco tra la barra del titolo e l'interfaccia del programma. Anche applicazioni non native quindi non di KDE come ad esempio Simple Scan vedete si integrano quasi alla perfezione. io poi utilizzo sempre Simple Scan perché altra piccola critica che faccio a KDE l'applicazione che viene utilizzata su KDE che fa parte del parco applicazioni di KDE per la scansione dei documenti non ha il supporto alla scansione diretta in PDF che è una cosa che sia proprio assurda. risolvo sempre con Simple Scan io adoro Simple Scan uno è il mio e i programmi perché riesce a fare scansioni rapide in PDF che vabbè è bellissimo. Comunque aperta e chiusa parentesi. Passiamo adesso all'altra novità che è il tema Breeze Twilight che poi in realtà non è Breeze Rewrite adesso lo faccio vedere subito andando nelle impostazioni in Italia Breeze Crebuscolo in effetti se lo pronunciate in inglese ecco per esempio questo è un'altra di quelle cose che andrebbe rivista era meglio lasciare i temi non tradotti perché Breeze Breeze Crebuscolo Breeze Scura è bruttissimo. Qual è la differenza tra i vari temi che troviamo adesso? Breeze pannello inferiore chiaro tema chiaro generale Breeze Crebuscolo che è il nuovo tema che è stato introdotto che semplicemente va a mettere la barra sotto scura mantenendo sopra il tema chiaro e poi abbiamo il classico Breeze Scura che va a applicare uno schema di colori scuro semplice carica se non si suicida eccolo qua che io non cioè conosco tantissimo ecco vedete ecco adesso avete avuto modo di vedere il famoso bug di cui vi parlavo ecco che cosa succede utilizzando un tema scuro una combinazione di colori scura su KDE con Firefox cioè riuscite a leggere qua sopra no non si riesce a leggere un cavolo meno male che hanno messo di default il tema chiaro rimettiamo chiaro così ripristiniamo anche il nostro amato Firefox andiamo a vedere le altre novità le altre novità sono Plasma System Monitor lo andiamo a richiamare andiamo subito a richiamare se sentite i bip bip sono gli aerologi ve l'ho spiegato nella puntata del podcast io ho tanti aerologi della Cassio e niente quando suonano agonisono quasi agonisono perché mano a mano si sregano ogni ora sta i bip bip vabbè comunque aperto e chiuso parentesi questo è il nuovo monitor di sistema andiamo a dargli un'occhiata come potete vedere nella panoramica generale fa vedere l'utilizzo di memoria l'utilizzo del disco e l'utilizzo della CPU l'utilizzo delle reti la velocità di rete di scaricamento le risorse e quant'altro andando su applicazioni abbiamo il classico aspetto delle applicazioni quelle singole quindi possiamo andare a vedere i dettagli delle singole applicazioni andando su cronologia avete i schemi quelli che vi piacciono voi i vari diagrammi che dici che cose stupende non lo so che cazzo ci può io conosco gente che impazzisce per questi diagrammi che sta ora e ora e ora a guardarsi gli diagrammi per andare ad analizzare il computer comunque qui abbiamo tutti quanti i vari processi e poi possiamo aggiungere delle schermate personalizzate nel caso non vi bastasse tutto questo ben di dio andiamo a vedere le altre novità le altre novità riguardano miglioramenti K-Win e Wyland le impostazioni di sistema perché è stata aggiunta riprende le impostazioni di sistema ve lo faccio vedere subito la schermata del Firewall ok adesso non riesco a trovare subito subito oh mi sono diventato ciecato no eccolo qua facciamo qui facciamo come facciamo gli antichi eccolo qua non fate caso alla lentezza perché sono su un disc meccanico direte voi cioè hai messo il computer nuovo e non hai messo Linux su SSD sì lo so sono una persona cattiva è una lunga storia comunque a breve prenderò anche un SSD da dedicare soltanto a Linux come potete vedere qui è possibile gestire il Firewall abilitarlo andare a impostare le politiche e quant'altro quindi se avete il Firewall potete pasticciarci e giocarci e poi c'è il nuovo applet mediaprile che è stato migliorato adesso per esempio vi faccio vedere una cosa l'unico sembra se riesco a fare senza amici di Marcosbox benvenuti in questa piccola video anteprima di KDE Plasma 100.21 qualche giorno fa come ben saprete è stata rilasciata ok è questo il nuovo in questo caso non c'è soltanto in riproduzione il mio faccione con WGC otterra musica da qualche parte credo che sì ecco classic un attimo che vi faccio sentire un po' di musica sembra se non mi bandano eh no mi sembra che mi bandano e come potete vedere c'è la copertina dell'album che potete ammirare quindi l'applet media è stato migliorato adesso include l'elenco delle applicazioni che attualmente riproduco musica con la scheda con una bella copertina e quant'altro è davvero davvero carino questo per quanto riguarda le prestazioni generali ho notato un leggero boost di velocità che questo non guasta mai e che devo dire sono soddisfatto da questa nuova versione mi piace mi piace la sto provando con estrema soddisfazione vabbè che mancavo da tempo su mancavo da tempo oramai su KDE perché praticamente è passato quasi l'ultimo anno intero su Ubuntu con la sua visione di Gnome mi devo ricredere perché le prestazioni sono migliorate il restyling che è stato fatto al sistema al schema di colori alle varie applicazioni mi piace che dire lunga vita a KDE Plasma speriamo che migliori oltremodo con le prossime con le prossime release che riesca a diventare un sistema sempre un desktop environment sempre più completo moderno e che riesca anche a attrarre qualche altra distribuzione come desktop environment principale sapete bene che adesso è utilizzato come desktop environment principale praticamente soltanto su OpenSource diciamo alla fine e vabbè è su Mangiaro che ha le tre edizioni però per il resto non ci sono grandi distribuzioni che lo supportano beh con questo è tutto lunga vita e prosperità a tutti quanti ci rivediamo in una prossima video anteprima qualche giorno fra qualche giorno fra qualche mese fra qualche anno non si sa sapete bene che sono molto discontinui in queste cose ciao ciao